Siamo sull'anno in questa traccia per la prima volta con questo arrangimento Settore centrale prima delle elezioni di progettiva con Milano Per la prima volta in quest'anni abbiamo un piano e abbiamo portato bene La morale qual è? Si può fare! La morale qual è? La morale qual è? Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti